Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, ecco a voi il vostro LLegati97, oggi con Diana e i nostri due amici conosciuti sul gioco faremo un Alcatraz e poi si vedrà! E la perderemo! La perderemo? Ah dai! Non ho un'arma! Arca vacca! Bene, l'Arctic! Vedo un'arma! Adesso! Non c'è! Non c'è! Chi ho? Giusto! Perciò... Io... E' chi? Per forza, giusto! E' un calado, leggero... C'è un tipo là in fondo, eh? è morto non ho fatto tempo a sparare è morto tanto è decapitato è morto poco no io sono sotto anch'io io sono ah io un paio li ho fucilati anche io è nato ho fatto la pazzia di acquistare il butter pan Questa cattiveria qui Dov'è? Vieni che mi ha sembrato la kill Io penso Un altro modo Se serve qua c'è un giubbotto viola per qualcuno Io arrivo a prenderlo che non ce l'ho Te l'ho pingato, l'hai visto? Non ho ciullato Te ne vedete un altro, ditevelo Non ho ciullato la kill io adesso Famigliaco Oddio, sono il giudice Ah, io sono... Hai ciullato? Oddio Dove sei? Dove sei carogna? Qua ce n'è uno in casa Eccolo lì Eh no È morto, è morto Mi devo curare Sai che mi sta curando un attimo Mi sa che c'è qualcuno sulla torre Bene, bene bene Bene, bene Mi piace, sta andando bene adesso Siamo un po' fuori dalla safe Sì Esatto Si arrivo, arrivo, arrivo Dove sei? Io ne sto inseguendo uno Ma le casse qua Mi in mezzo al mare In mezzo al mare Che siamo Ce ne sono altre due qua da me Sì Arrivo, devo salire Non riesco a salire Non riesco a salire Aspetta Uno è morto Bene, bene Un altro, bene Allora, qua ce ne sono un paio Un altro morto Qua sento Sento gente Sento gente Parti Ancora un altro Sei lontana? Ah no Ok Mi devo curare Ci sono rimasti i nove Minchia Nove, quattro siamo Quattro siamo noi Bene, bene, bene Bene, bene Partita di riscaldamento Morto Fine Vai ragazzi E la prima l'abbiamo vinta ragazzi Ma è anche molto veloce questa Visto che la partita precedente è andata molto bene Tentiamo la fortuna anche in questa E la goncia Ma tu non è più la skin dello zombie? Mi ricorda Io? No legati Avevi la skin dello zombie? Ti ricordi quella che avevo anche io? Si ma non so che fine abbia fatto Eheh, è sparita Non ci sono Non ci sono armi Ok ho un'arma Ho un'arma e c'è un tipo davanti a me Quindi lo ucciderò Non ci voglio Non ci voglio Nooo No, no, no Eeeek Ho due pompa perché ne vuole uno Io grazie Io Dove sei? Io sono qua in fondo Però lo mollo qua Tanto ce ne sono C'è un tipo C'è un tipo Cazzo mi ha ucciso Così con il colo Dove sei? Sono morta Sono morta Ma dove sei andata? Sei andata a destra? No, sul tetto ero ancora Ah, ero ancora sul tetto? Sì Adesso insieme ai piedi Andiamo dov'è Uno è morto Ehi, vieni Un altro è morto Un altro è morto Cazzo Eh, poi non ho più munizioni Porca troia Dai, sto aspettando di fare questo Non ho più munizioni E io Posso rilacci Figa Dove sei? Tu sei la? Numero qua Uno Uno Una che mi segue Le gatti sono dietro di te io, no? Io c'ho un granello di vita Vado giù alla cassa Vediamo Cazzo ma nessuno che ha delle cure contrastino Fasce nella uno si scappa Sono qua in casa ma sono qua dietro tu Ma dove è la safy tuto questo? Quanta gente che c'è qua Figa la Hai bisogno un po' di energia? Di cure? Di kit? Io sì, se li hai volentieri. Io ho anche qualche adrenalina. Se ne volete... Che? Cos'è successo? Wow, un colpo in testa, va bene. Oh oh... Oh oh, cavallo. Quella? Un kit o no? Fluff, vai or no? Ok, va anche. Aspetta che ho appena preso un kit e mi sto curando dal resto. Che cattivere, ma povero. Vedi che gioce... Guarda che fu... Ah no, legati. Cosa vuoi da legati? No, no, niente. Pensavo fossi mio cugino. Fagli vedere il fucilo da terrone che ho. Nero e oro. Ma crepa. Dov'è? Sì, dov'è? Mi spanei uno dietro da qualche parte. Eh sì, l'ho visto. Dov'è? Mi hai un altro? Sento i piedini. Che cazzo è? Ma guarda me. Mi hai deciso? Mi è morto. Non ho cura, vabbè. Tanto adesso le ho... Dove sei? Le ho rubate, le ho rubate, le ho rubate, le ho rubate. Le ho rubate. Adesso... Mi do il lanciafiamma adesso. C'è una cassa qua vicino? Dov'è? Che è sto fattivere? Ma che sfiga. Raga, ne manca una squadrata da quattro, eh. Uno ce l'ho qua intorno. Ostia. Ti ho dato una fiammata. E tu vieni qua. E io... Se c'è qualcuno che cammina... Sento sparare. Che bello. Un colpo. Un colpo ce l'ha andato. Un colpo. Uno è morto. Ne mancano tre. Un altro sta morendo. Morto. Quei sono tutti. Eh, in realtà ne manca uno, eh. Ho preso la cappa arancione. E tanto ne manca uno. Ma almeno se lo uccido io, lo uccido con grandi soddisfazioni. Guarda, lo devo grimare io. Lo devo grimare, lo devo grimare. È qua dentro, è qua dentro. Dove sei? Che coloro sei? Dove sei? Che... Dov'è? È giù. No, ce ne è più giù, non mi sa. No, è finito, è finito. No, no, no. Volevo ucciderlo io. L'ultimo l'ho cotto io. E anche per oggi è tutto ragazzi. Io vi chiedo un mi piace qua sotto se questo video vi è piaciuto. Di iscrivervi al canale per supportarmi. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao!